Che schifo, mamma mia, che schifo, ma proprio una vergogna, niente di meno come un si appareggia in casa. E poi, ah boh, abbiamo perso con il frosinone, figurate, e che ci meravigliamo. Siamo proprio una massa proprio scema, ma proprio scema che ha l'occhio, ma che vergogna, che vergogna. Allora, chi non vuole più e si sente appagato di questo scudetto e tutto, state a sentire a me. Guardate un momento a Nanzu, o Bip, per favore, perché non può essere, non può essere, perché è una squadra, campione d'Italia, ci manca solo chi è accompagnato bene, che facciamo, tutte queste figure di merda. No, ma non esiste proprio, ma non esiste proprio. Mamma mia, che vergogna, proprio, ma siamo proprio scuri, siamo proprio una banda di circa questa. Siamo proprio una banda di circa questa. A me non circa questa fa divertire, mi facciamo proprio cagare. Questo discorso, forse a Napoli solo la maglia, sempre, ma veramente facciamo rire, facciamo rire, facciamo. Che vergogna, non siamo in grado di esignare, esignare, stiamo pure incassando pure un gol, meno male, meno male che è mai retta, ma perché chi l'ha tirato in un gol di merda, voglio dire, non dire, è merda, ha tirato. Ma se no, ma se no, ma se no, sta partita, abbiamo pure perso, poi volevo rispondere, c'era un'altra cosa. Ma zarri, ma zarri, ma rimane una cosa, tu mi fai un cambio e mi metti a Simeone, l'attaccante pure che abbiamo, opposti a Simeone, no, me lo metti all'ottantaseesimo, ma mi dice a me, che cazzo, mi metti a fare? Ja, ma per favore, ja, ma niente, si vede proprio, stiamo nervosi. Siamo proprio una banda scema, siamo una banda circa questa. Ormai stiamo proprio in fallimento, in fallimento totale, poi ovviamente il Presidente, gli unici campi che occorrono buono è il MAS, non ha fatto il sabano, o lì, si è là, che è il dubbio, però, è questo. Forza Napoli, solo la maglia, perché io, ma in questo momento, mi sto mettendo scorni, un po' buio.